Gli effetti della pandemia sono tangibili e rischiano di mettere in ginocchio tutto il sistema economico. Ma se molti evidenziano le caratteristiche di una crisi che può portare al collasso della propria attività, non manca chi, anche in questa fase senza precedenti, è riuscito a tirare fuori il meglio di sé e andare controcorrente. Continua il giro di Calabria 7 tra le attività economiche della regione, questa volta concentrandosi su esercizi commerciali e vendita di beni non di prima necessità. I primi giorni sono stati buoni, però poi dopo un po' di tempo le vendite si sono quasi azzerate. Si è avuta una riapertura molto, ma molto lenta e molto timorosa, un timore che sta proseguendo ma in maniera un po' più controllata e anche più regolata fortunatamente perché ormai sappiamo tutti come comportarci e nello stesso tempo come reagire e come operare. Il mercato sta andando male, non ci sono aspettative, le persone hanno ancora i dubbi riguardo l'apertura. Per noi il mercato ha dato dei segnali positivi, c'è stata una ripresa immediatamente dopo il lockdown. Subito dopo il lockdown c'è stata una leggerissima ripresa, anche grazie agli incentivi e tutto il resto. Le uniche prenotazioni che abbiamo fatto sono state cambi data, quindi vacanze prenotate per quest'anno, spostate all'anno successivo, piccole pratiche per l'Italia, quindi destinazioni vicine.